signora andiamo a tutto per ordine la cotoletta con la farina non le indi su mai io non l'ho sentita mai io la faccio così oppure se le devo fare fritte li faccio immergo comunque bagno nell'uovo la cotoletta poi la impano nella mollica e poi la frigo mollica condita con formaggio sale comunque condita quando li devo fare a forno signora bagno la cotoletta nell'olio e poi la impano nella mollica la mollica gli ho messo un pochettino di pomodoro e un poco di formaggio formaggio grattugiato e viene buonissima fatti a forno signora non fritte se lei li fa con l'uovo li deve friggere quale mi risci non sai cantare non sai cucinare non sa ciò cantare non è vero non ho la voce ma non che non sa ciò cantare signora il ciccicando sole mio si capo nipote non ho la voce ma poi ce l'ho le capacità ce li ho non so cucinare cucina a modo mio signora cucino a modo meno signora sto pezzettino ci lei cantare e mi commenti che non non sa ciò cantare mi pare a mia cato muli si copiare tu fai la pazza succede una festa da canna l'ansia e si deve resta scetto non sa ciò cantare